Luca torni a vestire una maglia che conosci bene, in un'annata strepitosa che comunque resterà tale, che sensazione hai? Sicuramente è una bella sensazione, sono contento di essere tornato perché mi si è prospettato un progetto ambizioso e ringrazio la società, il presidente, il direttore, il mister, quindi niente, adesso partiamo con entusiasmo e cerchiamo di compattarci, di fare gruppo in ritiro e di lavorare perché in questo momento è la cosa più importante. Cerchi anche un po' di rivalza personale dopo la passata stagione a Lecce con qualche difficoltà? Sicuramente, è un capitolo chiuso perché adesso voglio guardare al presente, cercare di far bene qua e dare una mano a tornare al Teramo a rivivere quelle emozioni che ha vissuto in quegli anni passati. Guardando questo stadio che ricordi hai? Mi ricordo questo stadio con 10.000 persone, con l'Ascoli, con la partita in casa, che è stata una festa. Quindi speriamo di ritornare a riportare un po' di entusiasmo e un po' di gente allo stadio. Le prime impressioni, poi ovviamente all'inizio si può dire di tutto, però le prime impressioni che hai conoscendo i nuovi compagni e magari ritrovando anche speranza, quali sono? Sicuramente sensazioni positive, già vedo un gruppo di ragazzi che vogliono far bene e molto alla mano, quindi adesso insieme con l'aiuto del mister cercheremo di seguire le indicazioni del mister e creare qualcosa di importante. Guardando l'avversario del girone C? Sicuramente io l'ho fatto già con l'Ecce, è un girone molto difficile, andiamo ad affrontare società molto ambiziose, però noi non dobbiamo avere paura di nessuno e cercheremo di imporre il nostro gioco in qualsiasi campo.